In questa immagine noi vediamo semplicemente un tentativo assolutamente fantasioso di ricostruire quello che poteva essere l'ambiente e l'aspetto di queste persone che indossavano abiti bianchi e vivevano in maniera estremamente frugale in un ambiente abbastanza estremo. Ora noi bisogna assolutamente specificare che degli esseni noi abbiamo due livelli di conoscenza. Una conoscenza che potremmo chiamare Pre-Kumran perché praticamente è la conoscenza che potevamo avere prima che fossero state fatte le scoperte nel sito di Kirbet Kumran. E da dove si originava questa conoscenza? Si originava dal fatto che alcuni autori avevano scritto di questa setta e precisamente si tratta di Filone Alessandrino nella sua opera Quod Omnis Probus Liber Sit che era un ebreo ellenizzato Giuseppe Flavio nella sua opera Guerra Giudaica Giuseppe Flavio che è praticamente una delle fonti più importanti per lo studio del periodo del primo secolo e delle origini del cristianesimo anche egli un ebreo fortemente ellenizzato e poi abbiamo due autori latini precisamente Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia e poi Ippolito Romano nella sua Refutatio Bene, adesso noi andremo a leggere alcuni passi tratti dall'opera di Filone Alessandrino e vediamo che cosa dice La prima cosa su costoro è che abitano in villaggi fuggendo dalla città a motivo delle impietà che abitualmente in esse si commettono dagli abitanti ben sapendo che la loro compagnia avrebbe un effetto deleterio sulle loro anime come una malattia portata da un'atmosfera pestilenziale Tra loro alcuni lavorano la terra altri esercitano mestieri diversi che cooperano alla pace rendendosi utili a se stessi e al loro prossimo non accumulano argento e oro né si appropriano di vaste tenute con il desiderio di trarne vantaggio ma semplicemente per procurarsi il fabbisogno essenziale per la vita Mentre in tutta l'umanità sono pressoché gli unici a vivere senza beni e senza possedimenti Per la libera elezione e non per un rovescio di fortuna si giudicano straordinariamente ricchi già che ritengono che la frugalità con la gioia sia, come in realtà è, un sovrabbondante benessere Questa è un'immagine fantasiosa anche questo è un tentativo di ricostruzione semplicemente per aiutarci a immaginare come potessero essere cosa facessero, in che ambiente vivessero e noi vediamo che praticamente come abitazione avevano delle rudimentali capanne Un altro passo che adesso esamineremo è invece tratto dall'opera di Giuseppe e Flavio La guerra giudaica Gli Esseni in particolare hanno fama di praticare la santità Ebrei di nascita sono più degli altri legati da mutuo affetto Costoro respingono i piaceri come un male mentre guardano come virtù la temperanza e il non cedere alle passioni Per se stessi disdegnano il matrimonio ma adottano i figli altrui mentre sono ancora arrendevoli ai loro ammaestramenti Li considerano come parenti e li modellano secondo i loro costumi Essi però non aboliscono il matrimonio e la propagazione della specie che ne deriva Dispregiatori della ricchezza Presso di loro è ammirevole la vita comunitaria In vano si cercherebbe tra di loro qualcuno che possieda più degli altri C'è infatti una legge che quelli che entrano nella setta cedano il patrimonio alla corporazione Così in tutti loro non appare né l'umiliazione della miseria né l'alterigia della ricchezza Bensì essendo fusi insieme gli averi di ciascuno hanno tutti come fratelli un loro patrimonio Ed ecco un'altra immagine che ci può aiutare a Figurarci che cosa facessero come passassero le giornate come fosse il loro ambiente Bene, questa è una fotografia che io ho scattato nel deserto di Giuda in prossimità del sito di Kirbet Qumran che ci fa vedere come l'ambiente sia veramente arido e in estate raggiunga delle temperature che sono assolutamente insopportabili e superano di gran lunga i 50 gradi centigradi Questa è una piantina che ci fa vedere dove si trovava il sito di Qumran Kirbet Qumran praticamente sulle rive nord-occidentali del Mar Morto ad una ventina di chilometri da Gerusalemme in pieno deserto di Giuda Bisogna ricordare che ci sono la bellezza di 1200 metri di dislivello fra Gerusalemme e Kirbet Qumran perché Gerusalemme si trova a 800 metri d'altezza mentre Kirbet Qumran e le rive del Mar Morto si trovano in una depressione a 400 metri sotto il livello del mare Ecco qui una fotografia che ci mostra il sito di Kirbet Qumran dove noi vediamo praticamente due strati geologici uno strato chiaro fatto di marna estremamente fragile che può essere scavata anche con le mani e poi uno strato più scuro di calcare scuro perché evidentemente contiene una gran quantità di ossido di ferro e le frecce indicano due ingressi di grotte che sono molto molto importanti perché all'interno di queste grotte furono scoperti i manoscritti i rotoli del Mar Morto questa è una visione aerea del sito archeologico dopo gli scavi dopo che è stato risistemato e questo è ciò che è stato trovato all'interno di queste grotte sono state trovate delle giare e all'interno delle giare i manoscritti ora a dire la verità le giare avevano più o meno questa forma che tra l'altro c'è una curiosità perché questa non sembra una forma tipica della ceramica ebraica ma una forma tipica della ceramica egiziana soprattutto il coperchio all'interno di queste giare sono stati trovati questi manoscritti ma non certo questi rotoli questi rotoli di carta pecora quindi materiale proteico non di papiro non certo nella condizione in cui lo vediamo in questa immagine ma piuttosto in questo modo cioè una condizione estremamente precaria al punto che bastava semplicemente toccarli perché questi andassero letteralmente in briciole e quindi il lavoro per aprirli e poterli leggere è stato un lavoro veramente difficoltoso che ha impegnato gli scienziati fatto sta che molti di questi manoscritti sono stati effettivamente aperti e nonostante quella alcune lacune sono stati anche studiati e interpretati quindi questo per esempio credo che sia il rotolo di Isaia vediamo che mancano delle parti ma questo non ci impedisce di comprendere grandi linee il significato dello scritto questa è un'immagine un po' strana perché lo studio dei rotoli non è certo stato fatto sui manoscritti originali che si sarebbero deteriorati in breve tempo e lo studio è stato fatto sulle immagini fotografiche ora c'è da dire una cosa molto importante che è spiegata benissimo in un libro di Michael Bygent e Richard Leigh il titolo del libro è The Dead Sea Scroll Deception in italiano è stato reso con Il mistero del mar morto di che mistero si tratta? si tratta del fatto che una buona parte dei rotoli finirono in mano alla Chiesa Cattolica in particolare alla Ecole Bibliquia di Gerusalemme di cui era direttore un sacerdote dominicano un certo Roland Devaux padre Roland Devaux era nato a Parigi nel 1903 morto nel 1971 ripeto apparteneva all'ordine dominicano che è uno degli ordini più conservatori all'interno della Chiesa per esempio la Santa Inquisizione fu costituita e portata avanti proprio dall'ordine dominicano dal 1945 Roland Devaux fu il direttore della Ecole Bibliquia di Gerusalemme e nel 1946 quando furono effettuate queste scoperte lui cercò di mettere tutto sotto il suo controllo qui lo vediamo mentre praticamente supervisiona gli scavi nel sito di Kirbet Qumran e qui abbiamo ancora un'altra immagine di Roland Devaux mentre lavora alla Cremente insieme a degli operai arabi la cosa grave è che i manoscritti che finirono in mano a Roland Devaux perché ripeto fortunatamente non tutti i manoscritti finirono in mano a Roland Devaux ma quelli che finirono in mano al padre dominicano furono letteralmente segregati per numerosi decenni ora per far capire la proporzione della cosa dobbiamo sapere che nella grotta di Qumran numero 4 a tutto il 1952 erano stati trovati la bellezza di 800 rotoli quindi una quantità veramente spaventosa di materiale che cosa fece il padre Roland Devaux? cercò di creare una commissione a cui volle dare la parvenza di pluralismo dico parvenza perché in realtà si trattava solo ed esclusivamente di personalità ben inserita nell'ambiente cattolico il pluralismo era solo di nazionalità perché per esempio per gli Stati Uniti c'erano Frank Cross del McCormick Theological Seminary di Chicago e poi Monsignor Patrick Schehan direttore dell'Albright Institute al Jerusalem tutti cattolici per la Francia c'era padre Jean Starkey del Centro Nazionale della Ressert Scientifique che poi fu sostituito da Emile Pueck sempre dell'Ecole Biblique per la Germania fu preso Klaus Hunzinger che però poi fu presto sostituito da un sacerdote francese Mauri Bailet per la Polonia c'era padre Joseph Milik per l'Inghilterra John Allegro che guarda caso era un laico ma venne prestissimo buttato fuori dalla commissione e sostituito da un certo John Strugnell sempre dell'Ecole Biblique e quando Devo morì a dirigere il team fu messo un altro padre dominicano un certo Pierre Benoît bene che cosa fece questa commissione di cattolici che non conteneva né laici né nemmeno gli ebrei che pure tutto sommato erano interessati più degli altri dal momento che gli scritti ritrovati a Qumran erano scritti dell'ebraismo antico questa commissione di religiosi di strettissima osservanza cattolica misero praticamente il carro avanti ai buoi cioè non videro cosa c'era scritto per trarre delle conclusioni ma stabilirono dei presupposti che vengono definiti consensus e poi cercarono in tutti i modi attraverso l'analisi dei manoscritti di dimostrare i presupposti di questo consensus e quali erano i presupposti? il primo era che i manoscritti erano stati redatti in epoca precedente alla nascita di Gesù questo era un presupposto molto importante per loro il secondo presupposto era che questi manoscritti esprimevano le idee di una setta ebraica dissidente che non aveva nulla a che fare con Gesù e col cristianesimo primitivo e infine le idee della setta erano completamente diverse da quelle dei primi cristiani perché questa serie di posizioni pregiudiziali? perché in realtà Padre De Vaux e molti altri avevano realmente il terrore che questa scoperta potesse apportare degli elementi critici per quanto riguarda la dottrina storica del cristianesimo degli elementi di forte turbativa ed ecco che loro misero in un certo senso tutto sotto naftalina per evitare delle pericolose conseguenze il personaggio che era stato buttato fuori e precisamente l'inglese John Allegro negli ultimi anni della sua vita dichiarò più volte che i suoi colleghi avevano occultato molto materiale importante e controverso questo non lo posso dimostrare con certezza è semplicemente un'affermazione che si trova nel libro che abbiamo citato prima The Dead Sea Scroll Deception di Bayjent Leig ma non è del tutto inverosimile altrimenti lui non sarebbe stato buttato fuori ma se del materiale veramente fosse stato occultato dove sarebbe finito? la risposta è abbastanza ovvia l'unico posto dove il materiale occultato potrebbe essere finito sono gli archivi segreti del Vaticano ma io vorrei che fosse chiaro che non sto affermando né che del materiale è stato occultato né che si trovano gli archivi segreti del Vaticano io sto solo facendo delle congetture che non hanno praticamente un valore assoluto ora il materiale cumraniano che era finito in mano all'Ecole Biblique di Gerusalemme rimase inaccessibile agli accademici di tutto il mondo quindi a professori universitari ricercatori che insistentemente chiedevano di poter visionare questo materiale e di poterlo studiare ma sistematicamente gli fu rifiutato finché a un certo punto la situazione internazionale diventò letteralmente esplosiva e l'Ecole Biblique fu costretta a concedere il materiale o almeno diciamo parte del materiale lo studioso che si è impegnato molto in questo senso è stato Robert Eisenman della California State University uno studioso che ha scritto un libro molto importante conosciuto come James the Brother of Jesus tradotto in italiano Giacomo il fratello di Gesù ma anche una traduzione che qui vediamo The Dead Sea Scrolls Uncovered dove a fronte pagina c'è la versione ebraica e poi la versione tradotta Eisenman è stato identificato come lo studioso più impegnato nella polemica internazionale sulla liberalizzazione dei rotoli e il risultato fu che gli furono consegnate le fotografie dei rotoli che ancora attendevano la pubblicazione incominciò a riceverle nel settembre del 1987 cioè 37 anni dopo la scoperta della Grotta 4 da prima si trattava di poche fotografie per volta poi gli invidi vennero più consistenti fino all'autunno del 1990 Questa è una visione satellitare della zona in cui si trova il sito di Kirbet Qumran e tutta l'area circostante fino al Mar Morto che vediamo nell'angolo in basso a destra e questa invece è un'immagine di una fotografia nella quale io sono presente siamo nell'anno 1997 purtroppo il mese era il mese di luglio e dico purtroppo perché non è il periodo adatto per visitare questo sito fa troppo caldo le temperature superano i 50 gradi è molto meglio andare nella mezza stagione questa è un'altra immagine dove si vede il centro di accoglienza e lì mi ricordo che quando ho pagato il biglietto la persona mi ha detto guardi prenda una bottiglia d'acqua e se la versi continuamente sulla testa perché ci sono persone che a volte per il troppo caldo si sentono male questa è una fotografia classica è proprio la fotografia che normalmente si vede sempre quando si parla di Kirbet Qumran con gli ingressi delle grotte scavate nella Marna e queste invece sono una delle giare trovate in queste grotte in particolare questa è esposta al museo di Gerusalemme tenuta naturalmente sotto una teca il museo di Gerusalemme viene chiamato Shrine of the Book che vorrebbe dire mausoleo del libro dove sono conservati i manoscritti è stato costruito sottoterra per evitare gli sbalzi di temperatura di umidità affinché i manoscritti si conservino il meglio possibile e al soffitto di questo mausoleo è stata data la forma del tappo delle giare all'interno di questo mausoleo si possono ammirare i manoscritti di Qumran ma diciamo la verità in realtà all'interno di queste teche ci sono le copie perché i manoscritti vengono tenuti in un ambiente dove possono essere protetti e possono evitare il deterioramento questa è un'altra fotografia che io ho scattato dove si vedono gli edifici in muratura del sito di Kirbet Qumran bisogna tenere presente che questi edifici avevano diversi usi ma non quello di abitazioni la gente abitava tutto intorno non in questi edifici questa è una ricostruzione virtuale di come potevano apparire questi edifici quando erano in buone condizioni che cosa facevano gli esseni all'interno di questi edifici bene in questa immagine noi vediamo un banchetto comunitario tutti vestiti di bianco sulla destra vediamo il messia il messia di Israele il messia di Aronne che distribuiscono il pane e il vino questa è un'altra immagine di un edificio che probabilmente non era adibito a mensa ma era adibito a biblioteca o meglio piuttosto che a biblioteca era adibito a scriptorium questa è un'altra ricostruzione di come forse di quale aspetto doveva avere probabilmente questo edificio e qui vediamo che cosa facevano gli esseni perché loro passavano una gran parte del loro tempo a scrivere i manoscritti in particolare tre tipi di documenti e cioè copie della Bibbia copie del Vecchio Testamento poi dei manuali settari ovvero sia manuali che contenevano le regole della comunità le regole della confraternità e infine commentari a testi biblici questi sono soprattutto i tre tipi di manoscritti che noi abbiamo trovato qui invece vediamo una vasca una vasca che a suo tempo conteneva acqua ma che non era un semplice serbatoio per gli scopi per bere questa vasca aveva sicuramente un uso cultuale ci sono delle scale che in un certo senso ci fanno pensare ai Ghat indiani cioè a quelle scale che scendono nel Gange che vengono usate per praticare dei riti sacri dei riti purificatori per mezzo dell'acqua e qui vediamo un'immagine che potrebbe essere un battesimo potrebbe essere per esempio una iniziazione in quanto noi sappiamo che il rito di iniziazione alla setta era un rito battesimale con acqua quindi probabilmente queste vasche con le scale venivano usate tra l'altro anche per i riti di iniziazione battesimale questa è ancora un'altra di queste vasche che presentano queste scale che permettono di scendere nell'acqua e questa è una veduta generale una veduta aerea del sito di Kirbet Qumran le vasche cultuali quelle dove venivano praticati questi riti erano sicuramente molto diverse dalle vasche usate come serbatoi perché queste ultime erano semplicemente circolari bene, adesso noi ci occupiamo di leggere alcuni brani importanti dai manoscritti del Mar Morto in questo caso abbiamo a che fare col manuale di Sciplina dove viene descritto il rito del pasto comunitario in ogni luogo in cui saranno dieci uomini del consiglio della comunità tra di essi non mancherà un sacerdote si siederanno davanti a lui ognuno secondo il proprio grado e così nello stesso ordine sarà domandato il loro consiglio in ogni cosa e allorché disporranno la tavola per mangiare o il vino dolce per bere il sacerdote stenderà per primo la sua mano per benedire in principio il pane e il vino dolce per bere il sacerdote stenderà per primo la sua mano per benedire in principio il pane e il vino dolce e questo irrimediabilmente ci ricorda una cosa ci ricorda l'episodio narrato nei Vangeli relativo all'ultima cena di Gesù con i suoi apostoli dove lui esegue appunto la fraxio panis distribuisce il pane e il vino ai fedeli un altro brano lo ritroviamo sempre in manuale di disciplina che parla dei due messia della duplice attesa messianica non usciranno da alcun consiglio della legge per camminare nella ostinazione del loro cuore saranno invece retti in base alle prime disposizioni nelle quali incominciarono ad essere formati gli uomini della comunità fino alla venuta del profeta e dei messia di Aronne e di Israele il messia di Aronne era il messia principale quello di dignità spirituale, sacerdotale mentre il messia di Israele era il messia politico il messia regale ci viene da pensare che lo stesso Leonardo da Vinci nei suoi quadri sembra quasi voler ripercorrere questo concetto della duplice messianità questo è il quadro della Madonna delle Rocce che contiene numerosi significati simbolici alcuni dei quali tutti da interpretare potrebbe essere ricollegato a questa duplice attesa messianica nel documento di Damasco troviamo di nuovo una conferma di questa duplice attesa del messia di Aronne e del messia di Israele nella regola dell'assemblea vediamo che cosa si dice e quando si raduneranno alla mensa comune oppure a bere il vino dolce allorché la mensa comune sarà pronta e il vino dolce da bere sarà versato nessuno stenda la sua mano sulla primizia del pane e del vino prima del sacerdote messia di Aronne e giacché egli benedirà la primizia del pane e del vino dolce estenderà per primo la sua mano sul pane dopo il messia di Israele estenderà le sue mani sul pane e poi benediranno tutti quelli dell'assemblea della comunità ognuno secondo la sua dignità in conformità di questo statuto essi si comporteranno in ogni riflessione allorché converranno insieme almeno dieci uomini e qui ancora una volta ricordiamo l'ultima cena nella descrizione evangelica e adesso invece parliamo di un rotolo particolarmente importante che è il rotolo della guerra vediamo cosa dice e questo è il libro della regola della guerra l'inizio si avrà allorché i figli della luce porranno mano all'attacco contro il partito dei figli delle tenebre contro le milizie dei Kittim ai quali andranno in aiuto coloro che agiscono impiamente verso il patto i figli di Levi, i figli di Giuda, i figli di Beniamin gli esuli del deserto combatteranno contro di essi nel giorno in cui i Kittim cadranno vi sarà un combattimento grande e una strage al cospetto del Dio di Israele già che questo è il giorno da lui determinato da molto tempo per la guerra di sterminio dei figli delle tenebre ora questo manoscritto ci fa capire che la visione pre-Kumran che noi avevamo basata soltanto sugli scritti di Filone Alessandrino Giuseppe Flavio, Plinio il Vecchio, Ippolito Romano non ci faceva capire che in realtà gli Esseni stavano preparando la guerra che avrebbe dovuto liberare Israele dal dominio dei Romani e dobbiamo notare un fatto particolare che in questo rotolo della guerra che sicuramente è stato scritto nel primo secolo dopo Cristo vengono riprese delle terminologie che sono tipiche del linguaggio di Zarathustra che visseva in 600 anni prima in Persia e che stanno scritte nel trattato Zend-Avesta probabilmente scritto dallo stesso Zarathustra bene, ora noi ci accengiamo a un compito particolare cioè quello di effettuare un confronto fra il contenuto dei manoscritti del Mar Morto e i contenuti del Nuovo Testamento per vedere se ci sono delle somiglianze e ne troveremo molte per esempio la terminologia figli della luce e figli delle tenebre noi la ritroviamo nella regola della comunità nella regola della guerra ma la ritroviamo anche nel Vangelo di Giovanni che usa appunto terminologie come tenebre, luce, figli della luce, figli delle tenebre poi troviamo un'altra somiglianza perché nei documenti di Damasco noi vediamo che praticamente gli esseni chiamano se stessi ebionim che vuol dire poveri ce lo conferma anche Luigi Moraldi uno studioso italiano che dice che ebionim, poveri è uno dei nomi che si davano i cumbraniani e ce lo conferma anche il professor Robert Heisen ma che dice che i seguaci del maestro di giustizia sono nominati come i poveri gli ebionim ora nel Vangelo di Luca nelle famose beatitudini che poi ci sono anche nel Vangelo di Matteo Gesù si rivolge alla gente dicendo beati voi poveri che in ebraico è ebionim e questo ci fa capire che forse Gesù si rivolgeva non ai poveri nel senso di disgraziati delle persone senza una ricchezza economica ma si rivolgeva ai componenti della setta del marmorto che si definivano poveri perché avevano fatto una scelta di vita frugale mettendo tutti i beni in comune questa è un'immagine che ci fa vedere la predicazione di Gesù il suo famoso discorso della montagna bene, all'interno dei manoscritti di Cumbrana noi troviamo il concetto della visita cioè viene atteso un giorno particolare in cui Dio visiterà il suo popolo e questo lo ritroviamo esattamente anche nel Vangelo di Luca che dice benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo oppure durante una maledizione di Gerusalemme che viene maledetta perché non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata dal Signore poi ci sono delle frasi nel rotolo della guerra in cui si parla dei vostri nemici del fatto che voi sarete salvi dai vostri nemici ma le stesse identiche parole noi le ritroviamo nel Vangelo di Luca in una frase dove si parla di salvezza dai vostri nemici nella casa di Davide che quindi questo discorso della casa di Davide fa capire che stiamo parlando di una ben precisa ambizione regale quella di riportare la dinastia davidica sul trono di Gerusalemme al posto degli odiati reucci erodiani poi c'è un passo nella regola della guerra che ricorda l'ingresso messianico di Gerusù in Gerusalemme nella regola della guerra ritroviamo parole come rallegrati molto Gerusalemme esultate voi tutte città di Giuda fino a quando risplenderà il re di Israele per regnare in Eterno questo lo ritroviamo in tutti e quattro i Vangeli è l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme quando la gente grida osanna a colui che viene nel nome del Signore il re di Israele che viene ripetuto ben due volte ecco il tuo re viene qui vediamo una scena dal film di Zeffirelli dove c'è appunto l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme su un puledro d'asina il che ripercorre la profezia di Zaccaria del re che entra sedendo su un puledro d'asina e la profezia di Zaccaria ha un significato messianico assolutamente inequivocabile sempre nei Manoscritti del Mar Morto noi troviamo delle frasi come andare nel deserto a preparare la via di Lui nel deserto preparate la sua via appianate nella steppa una strada per il nostro Dio ma nel Vangelo di Marco noi troviamo che queste sono esattamente le parole di Giovanni Battista Giovanni Battista pronuncia proprio le parole che si trovano nei Manoscritti di Qumran poi troviamo altre parole nel documento di Damasco percuoti il pastore sarà disperso il gregge e poi queste le ritroviamo anche nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo e poi a un certo punto nel documento di Damasco troviamo il concetto del Pozzo delle Acque Vive concetto che si ritrova esattamente nel Vangelo di Giovanni nell'episodio dell'incontro con la Samaritana dove si parla appunto del Pozzo delle Acque Vive poi per esempio nel documento di Damasco si dice che uno degli alimenti sono per esempio le cavallette che devono essere messe nel fuoco quando sono ancora vive ma il Vangelo di Marco ci conferma che questo era il modo il modo in cui si alimentava Giovanni Battista cioè si alimentava secondo delle modalità che erano tipiche degli esseni del Mar Morto alcune frasi sui documenti del Mar Morto il principio della creazione è maschio e femmina li creò li ritroviamo esattamente nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo poi Giuseppe e Flavio a proposito degli esseni ci conferma che loro vivevano in una maniera frugale l'abbiamo già letto nella prima parte di queste conferenze e negli Atti degli Apostoli noi vediamo che praticamente il principio era esattamente lo stesso dei seguaci di Gesù la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola e nessuno diceva la sua proprietà quello che gli apparteneva ma ogni cosa era fra loro in comune cioè praticamente gli Atti degli Apostoli ci confermano che i fedeli di Gesù anche dopo la sua morte vivevano esattamente nello stesso modo in cui vivevano gli esseni di Qumran un altro particolare all'interno dei manoscritti del Mar Morto noi troviamo una regola tassativa che è quella di non giurare né per Alef la Med né per Alef la Let e questo lo ritroviamo anche nel Vangelo di Matteo quando Gesù dice non giurate affatto non giurare neppure per la tua testa perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello quindi abbiamo un concetto che appartiene sia ai manuscritti del Mar Morto sia ai Vangeli e infine adesso noi teniamo presente alcune considerazioni di un personaggio che è Jean-Guenot-Marie Danielou che non è un ateo marxista anticlericale ma al contrario è un teologo ed è stato un cardinale francese esponente della Nouvelle Theologie che evidentemente non andava molto d'accordo con padre Deveau perché questo Jean-Marie Danielou a un certo punto afferma che è impossibile non riconoscere nelle prime epistole dei cristiani la struttura del catechismo di Qumran tale quale lo si trova all'inizio della regola della comunità e poi dichiara che è evidente la dipendenza del cristianesimo nei confronti di Qumran nella Didache che è un antico documento cristiano lui dice che si trovano delle rassomiglianze con le usanze della comunità di Qumran come per esempio l'uso di consegnare un abito bianco al nuovo battezzato che ricorda senz'altro la consegna dell'abito bianco a colui che era ammesso nella comunità essena e poi anche delle considerazioni sulle ore della preghiera le ore della preghiera dei cristiani erano esattamente le stesse delle ore della preghiera degli esseni di Qumran in questa terza puntata del nostro discorso su Gesù e i manoscritti del mar morto noi ci occuperemo soprattutto degli esseni da un punto di vista storico cronologico a partire da una considerazione ovvero sia siccome praticamente gli esseni sono esistiti dal 168 avanti Cristo fino a quando i romani li hanno sterminati nel 68 dopo Cristo cioè coprendo un periodo di quasi due secoli e mezzo per l'esattezza di 236 anni noi dobbiamo assolutamente essere disponibili a pensare che gli esseni in questo periodo non possono essere sempre stati uguali a se stessi cioè non possiamo usare la parola gli esseni per indicare qualche cosa di omogeneo di invariabile che ha determinate caratteristiche e che corrisponde a un cliché ben preciso che nella testa di molti per esempio è quello di monaci pacifici dediti soltanto alla spiritualità alla preghiera al culto alle cure alla magia questo sarebbe molto sbagliato perché se li consideriamo sia da un punto di vista spaziale che temporale allora in senso spaziale dobbiamo dire che innanzitutto gli esseni non erano insediati semplicemente a Kirbet Kumran Kirbet Kumran era senz'altro il quartier generale ma poi c'erano delle comunità sparse in tutta la Palestina e non è detto che queste comunità fossero tutte uguali l'una all'altra c'erano per esempio quelle che dissentivano sulla questione del matrimonio perché non erano disposti a praticare la castità non erano disposti a non sposarsi a non continuare la sopravvivenza della specie ma poi anche in senso temporale noi non possiamo pensare che gli esseni iniziali quelli del 168 avanti Cristo nel 68 dopo Cristo cioè 236 anni dopo fossero rimasti assolutamente gli stessi esprimendo gli stessi ideali lo stesso comportamento gli stessi costumi le stesse concezioni le stesse abitudini eccetera dobbiamo avere la disponibilità a immaginare gli esseni come una realtà molteplice variegata e aprirci a delle prospettive che alcuni possono rifiutare per esempio l'idea che gli esseni in realtà poi alla fine fossero degli accaniti guerrieri che cosa successe agli inizi bisogna prenderla molto larga e partire niente po' di meno che da Alessandro Magno noi sappiamo che Alessandro Magno che qui vediamo ritratto in un'immagine che lo vede impegnato in una battaglia con Dario III Alessandro Magno conquistò un impero gigantesco che andava dalla Grecia quindi dall'Egeo ma addirittura dall'Adriatico fino all'Himalaya fino all'India fino ai confini di quella che oggi è la Cina arrivando anche in Egitto un regno gigantesco che cosa successe che a un certo punto dopo questa impresa straordinaria Alessandro Magno nel 323 sembra per un attacco di tifo morì improvvisamente in età giovane e che cosa succede in questi casi in questi casi succede che abbiamo assolutamente delle scissioni i suoi generali cominciarono a spartirsi le varie parti dell'impero e noi arriviamo a un certo punto circa 150 anni dopo la morte di Alessandro Magno che le parti principali in cui è diviso l'impero sono due una quella più orientale che è sotto il dominio di una famiglia detta dei Seleucidi mentre la parte occidentale precisamente l'Egitto è sotto il dominio di una famiglia detta dei Tolomei in questo periodo la Palestina e Gerusalemme vengono a trovarsi sotto il regno ellenico dei Seleucidi fra il 175 e il 164 a.C. regna sui Seleucidi un certo Antioco IV Antioco organizzò una spedizione contro Gerusalemme per una rivolta dei Giudei e l'inizio della loro lotta per l'indipendenza sotto i Maccabei questo perché Antioco IV aveva deciso di ellenizzare gli ebrei di cancellare la loro identità culturale etnico e religiosa e trasformarli praticamente in Greci la causa della rivolta dei Maccabei fu il suo tentativo di ellenizzare a forza i Giudei arrivando a saccheggiare il Tempio lo profanò poi consacrandolo a Giove Olimpo introducendovi una sua statua noi sappiamo benissimo che gli ebrei non potevano sopportare immagini della figura umana o addirittura del Dio raffigurato in figura umana figuriamoci se potevano sopportare una cosa del genere all'interno del Tempio le vicende sono raccontate nei libri dei Maccabei nella Bibbia e la rivolta viene ricordata ancora oggi durante la festa di Hanukkah quindi Anteoco IV praticamente mise gli ebrei in una situazione di gravissima difficoltà facendo rischiare loro la perdita totale della identità e suscitando delle rivolte furibonde fu esattamente in questo periodo all'incirca verso il 168 a.C. che nasce il partito degli Hasidim o Asidei da cui probabilmente deriva il nome Esseni che praticamente si sono separati dalla società di Gerusalemme si sono insediati presso l'Owa di Qumran sulle rive del Mar Morto e hanno iniziato a costruire degli edifici sui resti di vecchie rovine istituendo così una comunità una comunità che praticamente attendeva i giorni del riscatto di Israele iniziarono a scrivere i primi documenti settari probabilmente la regola della comunità ora successe che nel 152 a.C. uno dei Maccabei e precisamente Gionata Maccabeo cioè di quelli che combattevano strenuamente contro la contro la stirpe se le uccida accumulò sulla propria persona due cariche quella regale e quella sacerdotale cosa che gli Hasidim o Esseni considerarono un fatto assolutamente sacrilego e questo creò una spaccatura insanabile tra Maccabei e Asidei che si considerarono ancora più in esilio nel loro rifugio nel deserto sulle rive del Mar Morto questa è un'immagine che ci aiuta a farci così a immaginare come potessero essere queste persone che si erano insediate in questo luogo così estremo c'è poi un secondo periodo che va dal 134 avanti Cristo fino al 31 avanti Cristo che è praticamente un periodo che dura circa un secolo che può essere definito il periodo classico degli esseni un certo studioso italiano Luigi Moraldi scrive a questo proposito il movimento acquista molte simpatie i torbidi sociali politici e religiosi lo favoriscono e la regione di Qumran non solo vede aumentare la sua popolazione ma anche la sua sistemazione e organizzazione materiale in particolare giovò al movimento la lotta di Giovanni Ircano I contro i farisei è verosimile in questo periodo che la comunità accentua i certi aspetti farisaici e si vedano sorgere vari gruppi esseni che condividendo in pieno le idee fondamentali del primo movimento se ne discostano per certi aspetti piuttosto secondari come il matrimonio la vita nel deserto la disciplina più libera una minore accentuazione comunitaria un maggiore ascetismo così sorge la comunità pilota e anche l'uno o l'altra forma del documento di Damasco alla fine di questo periodo abbiamo un evento particolare perché nel 31 a.C. c'è un terremoto catastrofico sulle rivie del Marmotte che praticamente distrugge tutti gli edifici qui vediamo come potevano essere queste persone in questo periodo classico un'immagine che abbiamo già visto nel primo dei nostri quattro documentari quindi in seguito a questo terremoto catastrofico abbiamo un terzo periodo che va dal 31 a.C. al 4 a.C. un momento oscuro perché non sappiamo bene cosa succeda un momento che suscita dibattito negli studiosi in cui non è perfettamente chiara la sorte dell'insediamento nell'identità e la quantità dei suoi occupanti è un periodo che praticamente coincide quasi perfettamente con la durata del regno di Erode il Grande è il periodo in cui sono stati prodotti i manoscritti del commento a Esaia delle benedizioni dei commenti ai salmi Giuseppe Flavio nella sua opera Antichità Giudaica ci parla ma dobbiamo prendere con un po' di sospetto quello che lui dice ci parla della benevolenza di Erode nei confronti degli esseni e per questo motivo potrebbe essere difficile credere che la comunità avesse un carattere apertamente messianico come nel periodo precedente si direbbe piuttosto che abbia assunto una connotazione monastica dedicandosi alla preghiera allo studio dei libri sacri allo sviluppo delle pratiche terapeutiche però non dimentichiamo che Giuseppe Flavio quando scriveva queste cose aveva tradito gli ebrei era passato dalla parte dei romani era diventato un pupillo dell'imperatore Vespasiano e stava scrivendo un libro di storia su ordinazione dell'imperatore Vespasiano quindi non è detto che noi dobbiamo prendere sul serio e alla lettera tutto quello che lui dice qui vediamo come potevano essere queste persone in questo periodo dediti alle pratiche cultuali a un certo punto nel 4 avanti Cristo succede qualcosa di molto importante dopo una trentina d'anni di regno nel 4 avanti Cristo muore di malattia erode il grande e siccome all'interno della società giudaica covavano delle potenzialità di rivolta di ribellione di riscatto contro il dominio sia dei romani sia della dinastia erodiana sia anche dei sacerdoti sadducei questo è un momento esplosivo in cui tutte queste potenzialità danno luogo a eventi drammatici un certo giuda soprannominato il galileo proveniente dalla città di gamala che in realtà non è in galilea ma è nel golan insieme a un certo sadoc organizza in galilea una rivolta zelotica nella città di sephoris dove assale gli arsenali regi e riesce a sottrarre le armi per rifornire i suoi seguaci ribelli da allora in poi i romani saranno soliti chiamare gli zeloti col soprannome di galilei dopo undici anni esatti nel sette dopo cristo i romani tolgono il potere sulla giudea a uno dei figli di erode il grande e precisamente a erode archelao e istituiscono una prefettura controllata direttamente dal potere imperiale attraverso un prefectus iudee il primo fu Coponius ma noi sappiamo che a partire dal 26 fu il famosissimo Pontius Pilatus quindi gli ebrei di Gerusalemme si videro governati direttamente dal potere imperiale romano in questa occasione i romani decidono di effettuare un censimento a scopi fiscali per riscuotere le tasse i più facinorosi si sollevano nuovamente sotto la guida di Giuda di Gamala quello detto il Galileo e danno luogo alla cosiddetta rivolta del censimento si tratta di un fallimento completo i romani hanno il sopravvento crocifigono migliaia di zeloti e uccidono Giuda il Galileo queste sono delle immagini nelle quali vediamo eventi di questa rivolta perché sta di fatto che gli zeloti hanno inflitto moltissime perdite ai romani però i romani alla fine sono stati in grado di reprimere la rivolta e controllare la la situazione crocifiggendo migliaia di ribelli e facendo fuori lo stesso Giuda di Gamala allora a questo punto noi abbiamo il quarto periodo della storia di Qumran che è tutto l'intervallo fra la morte di Erode il Grande e gli eventi della sanguinosa guerra con i romani ovvero sia il periodo che va dal 4 a.C. al 68 69 d.C. quando l'insediamento di Kirbet Cumra viene distrutto dalle legioni di Vespasiano i membri della comunità sono cacciati dal luogo e parzialmente sterminati qualcuno certamente riuscirà a fuggire ma una grossa maggioranza vengono massacrati sul posto all'inizio di questo periodo di questo periodo che inizia nel 4 a.C. il sito di Cumra si ripopola di uomini animati da un rinnovato spirito rivoluzionario qualche studioso sostiene addirittura che il sito è diventato il quartier generale degli Zeloti dello stesso Giuda di Gamala alcune delle strutture danneggiate dal terremoto vengono restaurate anche se non tutte adesso la comunità è caratterizzata da una decisa tensione messianica e apocalittica cioè dalla sensazione dell'imminenza dei tempi promessi da Yahweh per la ricostruzione del suo regno ovvero sia di Israele liberata dai suoi dominatori Già si individuano le figure dei messia attesi in alcune persone fisiche reali e molti vogliono passare dalle speranze e dalle attese alle azioni concrete è questa l'epoca in cui vengono redatti il rotolo di rame la regola della guerra il commentario ad Abba Kuk con riferimento a questo periodo possiamo dire che si attenua la differenziazione fra le denominazioni esseni zeloti e sicari e infatti tutti i movimenti di ispirazione messianica acquistano una caratterizzazione interventistica nel senso della lotta politico-religiosa e quindi ha senso utilizzare una terminologia mista come esseno-zeloti nella piccola immagine possiamo vedere degli esseni che stanno per nascondere i manoscritti dentro le giare all'interno delle grotte perché evidentemente hanno capito che i romani stanno per arrivare per distruggere tutto e quindi sono intenzionati a salvare almeno questi documenti nella speranza di poi poterli riutilizzare in un futuro più lontano e finalmente e finalmente lo dico con grande ironia con grande dolore nel 68 d.C. i romani arrivano distruggono il sito di Kirbet Cumbran e ne uccidono gli abitanti l'attacco è un attacco tremendo le forze romane sono assolutamente invincibili irrompono incendiano distruggono ammazzano e alla fine di quello che era il sito degli esseni dopo 236 anni praticamente rimangono soltanto dei ruderi disabitati in seguito alla cacciata di questi essenozeloti i romani insediano a Cumbran un piccolo contingente utilizzando il sito come base possiamo chiamare quinto periodo di Cumbran l'intervallo di occupazione romana fra il 68 69 d.C. e il 73 nel frattempo il grosso dell'esercito romano è impegnato una cinquantina di chilometri più a sud nell'assedio della fortezza di Masada dove si sono asserragliati alcuni superstiti della lotta messianica cioè esseni sopravvissuti e zeloti sopravvissuti sotto la guida di un certo Eleazar Ben Jair che con tutta probabilità è un discendente un parente di Giuda il Galileo dopo il 73 ovvero sia dopo l'espugnazione di Masada e il suicidio di Massa dei suoi occupanti i romani abbandonano Cumbran le cui rovine rimangono solitarie per alcuni decenni parliamo un attimo dell'assedio di Masada ha durato circa tre anni Masada si trova abbiamo detto a 50 chilometri a sud di Cumbran sulla riva sud-occidentale del Mar Morto è stato fatto è stato fatto anche un film un famoso film che narra questa drammatica storia dell'assedio di Masada un film interpretato da Peter O'Toole queste sono delle fotografie che ho fatto io nel 1997 dalla rupe di Masada dove vediamo alcuni resti e vediamo anche che ci sono dei precipizi che si gettano verticalmente sulla valle sottostante sul deserto 200 metri più in basso ecco un'altra immagine dove si vede praticamente la stessa cosa ci sono oggi delle stradine che permettono di arrivare in cima oltre ad una funivia costruita dagli Svizzeri questa è un'altra immagine dove si vede che sulla fortezza di Masada che a suo tempo era stata costruita da Erode il Grande nella fortezza di Masada c'erano delle vasche cultuali uguali identiche a quelle che poi abbiamo trovato anche a Kirbet Qumran questa è un'altra immagine da una feritoia della fortezza di Masada dove si può vedere il deserto sottostante e un po' più in là le acque del Mar Morto e questa è un'immagine molto interessante perché sul versante occidentale della Rupe affacciandosi sotto un centinaio di metri più sotto noi vediamo in maniera estremamente chiara i resti di quello che era stato l'accampamento romano che stavano assediando la Rupe di Masada vediamo proprio i resti dei muretti e quindi noi ci rendiamo conto che i romani hanno vissuto lì in quell'ambiente dove d'estate si raggiungevano 50, 52, 54 gradi e rifornendosi di acqua circa 20 chilometri più a nord dove sorgeva l'oasi di Enghedi è stata una vita durissima per i romani anche perché questa Rupe sopraelevata era quasi impossibile da espugnare cosa hanno fatto i romani? i romani notando l'impossibilità di sconfiggere gli assediati che erano circa 900 persone hanno deciso di costruire un terra pieno per poter salire su e raggiungere la fortezza mentre intanto su gli assediati sotto il comando di Eleazar Ben Jair si difendevano buttando di sotto di tutto armi frecce pietre per impedire l'operazione dei romani questa è una fotografia moderna nella quale si vedono benissimo i resti di questo terrapieno che era stato costruito dai romani questa invece è un'altra immagine che si vede quando i romani ormai sono quasi arrivati in cima e sono sul punto di penetrare all'interno della fortezza gli assediati si difendono con le unghie coi denti ma sanno che ormai non c'è più niente da fare ormai il loro destino è la sconfitta pertanto cosa succede? per non consegnarsi ai romani per fare in modo che di non diventare schiavi deportati di non sottopore le loro donne a un destino terribile decidono un suicidio di massa e Eleazar Benjair secondo quanto ci racconta Giuseppe Flavio pronuncia un discorso per invitare la gente a accettare non a malincuore l'ipotesi del suicidio quello che è curioso è che nel discorso che Eleazar Benjair pronuncia ci sono addirittura delle concezioni che fanno parte della filosofia orientale indiana e questo ci fa immaginare che fra le concezioni oseno zelote e le concezioni indobuddiste potesse veramente esserci un qualche legame una qualche comunicazione certo ci rimane una domanda molto curiosa e cioè come faceva Giuseppe Flavio che era già passato dalla parte di Vespasiano a venire a sapere qual era stato il discorso che Eleazar Benjair aveva pronunciato in quella circostanza comunque per concludere il fatto sta che i romani quando riescono a irrompere all'interno della fortezza non trovano niente se non 900 cadaveri passati a fil di spada e le cronache dicono che praticamente si erano salvate soltanto due donne e tre bambini che si erano nascosti in un anfratto a questo punto siamo praticamente alla conclusione perché l'ultimo momento che elenchiamo in questo lavoro è il sesto periodo di Qumran ovvero sia il breve intervallo fra il 132 e il 135 dopo Cristo in cui gli eredi della lotta senozelotica sotto la guida di un certo Simon Bar Kokba a Simone il figlio della stella che probabilmente era ancora un parente di Lazar Benjair e di Giuda il Galileo gli eredi della lotta senozelotica utilizzano il sito come base prima di essere completamente sconfitti dai romani le uniche loro tracce rimaste nel sito sono alcune monete d'ora in poi Kirbet Qumran sarà veramente gettata in un lungo abbandono mentre i manoscritti Qumraniani ben nascosti e custoditi nelle giare all'interno delle grotte rimarranno lì e attenderanno il 1947 per rivedere la luce dopo ben 18 secoli in quest'ultima parte della nostra conferenza Gesù e i manoscritti del mar morto dobbiamo decisamente affrontare una domanda che nelle precedenti tre puntate è stata silenziosamente presente come un enigma di sottofondo Gesù era o non era un esseno non c'è una risposta chiara e definitiva il problema può essere trattato seriamente solo creando un ventaglio di risposte una panoramica di soluzioni che affiancate l'una all'altra ci fanno capire qual è al momento lo stato dell'arte ma dobbiamo rassegnarci perché credere che in questa materia si possa ammirare alla ricostruzione storica dei fatti è un atteggiamento ingenuo puerile privo di scientificità e di senso reale della storia userò le parole di Robert Eisenman lo studioso che abbiamo già nominato quello che tanto si diede da fare per liberare i rotoli di Qumran dalla segregazione imposta dall'Ecole Bibliqu di Gerusalemme di in my mind the question of the historical Jesus is still out there it is unresolved but I have suggested in my work this one in particular James the brother of Jesus the key to unlocking the secrets of early Christianity and the Dead Sea scrolls that once you have found the historical James you have in fact found the historical Jesus why because the gospels are so overwritten and so retrospectively written that no one's been able to agree on who the historical Jesus even is that's why we have had the quest for the historical Jesus since Albert Schweitzer's time gone on for almost 200 years that's why we have the Jesus seminar out in western California the real historian would have to say that those closest to him those who spent all their time with him those who knew knew him better well who was that James the brother of Jesus I believe what actually did happen is more important than what people believe happened so if you want to start your study of the historical Jesus the first place to go is to James and I end this book by saying who and whatever James was so was Jesus so in others that is my view the solution to the historical Jesus riddle and it's a very simple one Jesus is executed even in the scripture we know as a Jewish revolutionary whatever you want to say crucifixion was something the Romans imposed on seditious insurrectionary behavior from the Spartacus uprising in the 80s BC Robert Eisenman che ha scritto diversi libri molti dei quali sono stati tradotti e pubblicati in italiano sostiene un'ipotesi abbastanza forte che il cosiddetto maestro di giustizia delle scritture cumraniane altri non fosse che Giacomo il giusto l'apostolo di Gesù che in realtà era suo fratello e che al posto di Pietro fu il vero successore di Gesù come capo della chiesa di Gerusalemme San Paolo al contrario sarebbe stato quello che i rotoli definiscono l'uomo di menzogna e noi dobbiamo riconoscere che nelle sue lettere Paolo stesso ha dovuto scagenarsi spesso dall'accusa di menzogna in ciò che scrivo io attesto davanti a Dio che non mentisco Dio è padre del Signore Gesù lui che è benedetto nei secoli sa che non mentisco dico la verità in Cristo non mentisco e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo un altro autore che ha scritto cose molto interessanti sugli esseni sui manoscritti del mar morto e sulle possibili relazioni con Gesù è la professoressa Barbara Thiering che ha pubblicato un libro molto bello intitolato Jesus the man tradotto in italiano come Gesù l'uomo si tratta di una saggista australiana dell'università di Sydney storica teologa ed eseggeta biblica specializzata nelle origini della chiesa primitiva la professoressa nei suoi scritti sfida l'ortodossia cristiana esponendo una teoria secondo la quale nuovi ritrovamenti presentano risposte diverse dalla fede comune la sua tecnica interpretativa delle scritture si chiama Pesher al plurale Pesherim gli scrittori di Pesherim credono che la scrittura sia stata redatta intenzionalmente su due livelli il piano ordinario per i lettori con una conoscenza limitata e quello nascosto per gli iniziati con una conoscenza superiore secondo la Thiering nei quattro Vangeli canonici i fatti storici sono stati codificati nel testo cioè sono stati scritti e possono essere rivelati applicando il metodo dimenticato da venti secoli la sua teoria ovviamente è stata ampiamente screditata e rispinta dagli studiosi e le sue tesi hanno ricevuto scarso sostegno la Thiering sostiene che molti degli episodi che sono narrati nei Vangeli si sono svolti storicamente nel sito di Hirbet Qumran compresa la nascita di Gesù e il suo matrimonio con Maria Maddalena In the Gospels il teore utilizza due diverse forme della verità di Jerusalem sia un singolo o un plurale ora al leggere generale non significa nulla ma al leggere exacto significa che c'è una differenza tra due tipi di Jerusalem e se seguire questo vedete che funziona che la forma di Jerusalem significa che litoral Jerusalem 25 km da o 14 km in una linea in una linea while la plural forma significa qui il nuovo Jerusalem per quelli che sono exiliati qui quando i priesti del Tempolo found qui clung ad la idea che erano in Jerusalem e quindi trasferirono a qui in loro pensi, questo era il nuovo Jerusalem e in questa città in modo, una città in modo, una città in modo, si trattavano come se fossero in la reale Jerusalem, chiamando l'area Sanctuary, il templo, e le quartiere a la città, e l'acqueduct, la chidrone, che, ovviamente, si riempia tra il Mount Zion e il Mount of Olives. Si chiamavano la chidrone, perché si riempia in la stessa direzione come la chidrone. Il monastero sull'esterno si chiamavano il Mount of Olives. E quindi, in fantasia, riproduzono il tutto della città di Jerusalem in questo piccolo posto. Un altro studioso che si è occupato degli Esseni è un certo Edmund Bordeaux Zekeli, ungherese. Egli è stato un filologo, filosofo e psicologo, il quale, per aver pubblicato il famoso Vangelo e Seno della Pace, ha ricevuto una laurea honores causa dall'Università di Parigi e altri titoli dalle Università di Vienna e Lipsia, ha tenuto la cattedra di Filosofia all'Università Boliai in Romania. Zekeli sostiene di aver tradotto un testo che dice di aver scoperto negli archivi segreti del Vaticano e che avrebbe pubblicato in quattro parti nell'arco di numerosi anni. Io stesso sono stato il traduttore del quarto libro, l'ho tradotto dall'inglese all'italiano e fu pubblicato molti, molti anni fa col titolo Gli insegnamenti del maestro. Noi potremmo leggere una parte di questo testo per cercare di renderci conto cosa dice e che stile ha. Anche i figli della luce si inginocchiarono ed essi toccarono con riverenza il tronco dell'albero antico, poiché Gesù aveva insegnato loro che gli alberi sono i fratelli dei figli dell'uomo, dal momento che la loro madre è la stessa, la madre terra, il cui sangue scorre nella linfa degli alberi e nel corpo dei figli dell'uomo. E il loro padre è lo stesso, il padre celeste, le cui leggi sono scritte sui rami degli alberi e impresse nella fronte dei figli dell'uomo. Gesù disse, guardate, o figli della luce, i rami dell'albero della vita che si spandono attraverso il regno del padre celeste, e guardate le radici dell'albero della vita che scendono nel seno della madre terra. E il figlio dell'uomo è innalzato ad un'eterna altezza e cammina fra le meraviglie, perché solo il figlio dell'uomo porta nel suo corpo le radici dell'albero della vita, le eterne radici che succhiano dal seno della madre terra. E solo il figlio dell'uomo porta nel suo spirito i rami dell'albero della vita, gli stessi rami che si stendono verso il cielo fino a raggiungere il regno del padre celeste. Io devo essere estremamente sincero e dire che quando ho tradotto questa quarta parte del Vangelo esseno della pace, ho avuto sensazioni contraddittorie. Da un lato sono rimasto estremamente affascinato dalla sua bellezza, dalla sua profondità spirituale. Dall'altro mi è sembrato di rendermi conto che Zekeli abbia un po' lavorato di fantasia, perché nei rotoli di Qumran noi non troviamo questo genere di terminologia, né questa concezione duplice relativa alla madre terra e al padre celeste. E quindi io suppongo che il Vangelo esseno della pace possa anche essere nato dal ritrovamento di un documento antico, scritto in aramaico, attribuibile agli esseni, ma sul quale Zekeli, a mio parere ripeto, avrebbe lavorato di fantasia aggiungendoci delle concezioni che sono sue. Devo dire che ciò, nonostante il Vangelo esseno della pace, per me è diventato un punto di riferimento, perché la sua profondità, il suo significato, i suoi concetti, la sua bellezza mi hanno toccato profondamente e io mi rendo conto, oggi come oggi, che al di là della autenticità, per me è veramente un punto di riferimento che determina la mia spiritualità attuale. Torniamo dunque alla nostra prima domanda, quella che ci siamo posti all'inizio della conferenza, e cioè Gesù era un esseno oppure no. Osservando i quattro Vangeli dobbiamo dire che essi, tutto sommato, ci danno un'indicazione in senso negativo, poiché siccome tutti i Vangeli cominciano con la scena del battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista sul fiume Giordano, se il battesimo era la cerimonia di iniziazione, di ingresso nella setta essena, questo potrebbe indicarci che Gesù non era un esseno, ma lo divenne nel momento in cui fu battezzato da Giovanni Battista, il quale sicuramente lo era. Ma dobbiamo riconoscere che il problema in realtà è molto più complesso, perché prima ancora di domandarci se Gesù era un esseno, noi dobbiamo domandarci chi era Gesù e addirittura ma Gesù era una persona o più persone. In effetti, se noi andiamo a leggere questo brano del Nuovo Testamento, a partire da un sito cattolico che si chiama laparola.net che fornisce molte risorse per lo studio del Nuovo Testamento, per esempio ci fornisce anche i testi greci e andiamo a leggere questo passo dal Vangelo di Matteo. leggiamo delle cose molto interessanti perché c'è una frase in cui dice Avevano a quel tempo un prigioniero famoso chiamato Gesù Barabba. E qui siamo molto stupiti perché noi credevamo che il nome fosse Barabba, mentre adesso ci rendiamo conto che nei testi greci antichi c'era scritto che si chiamava Gesù Barabba, dove essendo Gesù il nome Barabba è un titolo. E in effetti è un titolo perché Barabba in aramaico si legge Barabba e vuol dire il figlio del padre. Ma la parola padre noi sappiamo benissimo che Gesù la usava per rivolgersi a Dio anche perché nella lingua ebraica Dio è una parola impronunciabile e quindi sono necessarie delle parole diversive. Addirittura nella liturgia latina l'espressione figlio di Dio è passata proprio come figlius patris, figlio del padre. E quindi abbiamo fatto una scoperta che veramente ci lascia scioccati perché questo prigioniero che è stato liberato praticamente si chiamava Gesù ed era titolato il figlio di Dio, la qual cosa ci lascia assolutamente sconcertati. Noi la scena del processo davanti a Pilato la conoscevamo in un modo molto diverso e molto più semplice. Gesù era Gesù il figlio di Dio e accanto c'era questo Barabba che era semplicemente un delinquente. Bene, andiamo avanti nella lettura del testo greco e noi vedremo che a un certo punto viene ripetuto questo fatto. Anzi c'è una domanda estremamente significativa che Pilato rivolge agli ebrei. Chi volete che vi liberi? Gesù quello chiamato figlio di Dio o Gesù quello chiamato Messia? E questo è ciò che si trova sugli antichi manoscritti del Vangelo di Matteo. Adesso noi andiamo a vedere lo stesso sito, la parola net, nel momento in cui fornisce la traduzione in italiano. E andiamo a leggere, avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba. Cioè il fatto che si chiamasse Gesù Barabba è completamente censurato. E se andiamo avanti, mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro Chi volete che vi rilasci? Barabba o Gesù chiamato il Cristo? La frase è completamente stravolta. Non esiste più questa duplicità fra Gesù il figlio di Dio e Gesù il Messia. È completamente scomparsa. È un atto di assoluta e completa disonestà culturale perché questi che traducono non sono studenti del primo anno del ginnasio sono professori di greco che a un certo punto, piuttosto che seguire la verità, seguono la ragione di stato, ovvero sia ci raccontano delle frotte per tenerci all'oscuro di quella che era la situazione. La situazione era che gli antichi manoscritti del Vangelo di Matteo dicevano ben altra cosa rispetto a quello che noi leggiamo oggi. Bene, e quindi chi era Gesù Barabba, Gesù il figlio di Dio? Ma dei due, all'interno del processo, è quello che sarebbe stato liberato non quello che sarebbe stato condannato e crocifisso. Ebbene, adesso è il caso di dire che esistono molti indizi del fatto che Gesù in realtà non solo non sia risuscitato, ma non sia neanche stato crocifisso. Posso elencare una serie di fonti. Ce lo dice per esempio un Vangelo gnostico chiamato Secondo Trattato del Grande Set, scritto da Basilide. Ce lo dice il Corano e quindi quasi un miliardo di persone sono assolutamente convinte che Gesù non è mai stato crocifisso. Ce lo dice il Vangelo gnostico di Filippo dicendoci che Gesù non è risuscitato. Ce lo dice un Vangelo gnostico che è stato scoperto recentemente e fortunatamente non è finito in mano all'Ecole Biblique di Gerusalemme ma al National Geographic. Ed è il Vangelo gnostico di Giuda di cui si è molto parlato. In questo Vangelo non si parla né di crocifissione né di risurrezione. Ce lo dice una setta, una setta religiosa che distanza in India che viene chiamata al Ahmadiyya che è convinta che Gesù non è stato crocifisso. Ce lo dice un manoscritto scoperto in Turchia che senz'altro deve essere indagato perché non possiamo credergli a scatola chiusa. bisogna certamente verificarne l'autenticità. Ma quello che è più importante è che alla fine ce lo dice il Vangelo di Matteo nel momento in cui ci dice che Gesù il figlio di Dio fra i due è stato rilasciato e l'altro invece è stato condannato e crocifisso. A questo punto noi dobbiamo ripensare a San Paolo perché potrebbe essere stato lui nella sua opera di revisione del messianismo ebraico trasformandolo in un messianismo spoliticizzato, degiudaizzato che non auspicava più la ribellione contro i romani e la liberazione nazionale di Israele ma auspicava una salvezza delle anime in senso universale Paolo potrebbe aver effettuato una sintesi dei due personaggi storici che potrebbero essere stati appunto il messia di Aaron e il messia di Israele e attraverso spezzoni di entrambi potrebbe avere costruito quello che è arrivato a noi oggi come il nostro Signor Gesù Cristo della dottrina cristiana. In effetti noi dobbiamo notare che all'interno dei Vangeli compare spessissimo una duplicità di aspetti che si contrastano l'uno con l'altro fra un Gesù violento per esempio il Gesù che entra nel tempio e butta giù tutti i tavoli dei cambiavalute dei venditori degli animali per i sacrifici il Gesù che maledice le città dicendo come Cafarnao, Corazim e Bezzaida dicendo che saranno precipitate all'inferno mentre poi invece c'è un Gesù pacifico che predica l'amore, la compassione, il perdono incondizionato e questa duplicità non potrebbe riflettere in realtà una duplicità dei personaggi storici in effetti se andiamo a vedere le due genealogie che ci sono offerte una dal Vangelo di Matteo e l'altra dal Vangelo di Luca ci accorgiamo che una è una genealogia regale perché contiene tutti i nomi di dignità regale i presunti re di Israele mentre la genealogia che ci offre Luca è una genealogia sacerdotale perché contiene tutti i nomi diversi da quelli presenti nel Vangelo di Matteo e che sono personalità sacerdotali ancora una volta abbiamo questa duplicità fra la personalità regale e la personalità sacerdotale se andiamo a leggere il Talmud troviamo parole come the Messiah, the son of David the Messiah, the son of Joseph cioè abbiamo una duplice figura messianica il Messia figlio di David e il Messia figlio di Giuseppe e a questo punto ci potremmo domandare se quello di David non è quello che è stato crocifisso e magari il figlio di Giuseppe quello che è stato rilasciato guardiamo adesso una serie di immagini estremamente curiose perché possiamo vedere che accanto all'iconografia classica del Gesù mite ci sono delle opere d'arte antiche che ci mostrano Gesù guerriero quello che vediamo sulla destra di questa immagine indossa un'armatura impugna uno scudo e una spada qualcosa di simile lo vediamo in questa immagine dove da una parte c'è un Gesù mite che tiene in mano un agnello e dall'altra parte abbiamo un Gesù che impugna un'enorme spada sembra quasi assaggiarne il filo della spada col tocco della mano sinistra e ancora questa un Gesù che risponde al cliché della non violenza nella parte sinistra e un Gesù bellicoso nella parte destra ma forse allora sempre tenendo presente che stiamo lavorando sul piano delle ipotesi stiamo percorrendo un cammino di ipotesi perché avevamo detto all'inizio dobbiamo costruire una panoramica di scenari che devono essere presi in considerazione ma nessuno di essi può essere considerato come definitivo e provato il Gesù messia di Israele ammesso che si chiamasse Gesù è quello che sicuramente è finito sulla croce perché aveva commesso un crimine inglese maiestatis volendosi fare re dei giudei e io in alcuni miei lavori fra cui lo stesso libro Gesù e i manoscritti del mar morto ho ipotizzato che potesse trattarsi di uno dei figli di Giuda il Galileo e l'ho approfondito questo discorso in un altro libro che è che è Gamala il segreto delle origini di Gesù l'altro personaggio il Gesù Bar Abba il Gesù figlio di Dio quello sì che potrebbe essere un maestro esseno quindi un individuo che non era interessato agli aspetti militari dell'impresa messianica ma che personificava soltanto un ruolo un ruolo spirituale un ruolo sacerdotale e qui noi siamo costretti a fermarci perché la mole di dubbi di domande che si sono create è tale che non ci consentono di andare avanti ma del resto ricordiamo cosa aveva detto Robert Eisenman i vangeli sono troppo sovrascritti riscritti trascritti e quindi noi non ne possiamo ricavare delle certezze questo non sta a significare che la figura di Gesù allora è completamente da buttare via perché la chiesa avrebbe manipolato i vangeli originali perché i traduttori li traducono in una maniera sbagliata sarebbe completamente errato dedurre che il messaggio spirituale non vale niente il fatto che qualcuno abbia cercato di modificarlo o di nasconderlo o di riutilizzarlo ai fini dei propri interessi della propria egemonia non sta assolutamente a significare che non esista un messaggio spirituale valido e qui ricordiamo le parole della professoressa Barbara Thiering la quale aveva detto i vangeli sono stati scritti a due livelli un livello per coloro che li possono comprendere in una maniera inferiore e un livello per quelli che hanno una capacità di comprensione più profonda senza altro la figura di Gesù estratta dai dogmatismi dai dottrinalismi di una di un insegnamento che si è imposto per secoli con la forza e con la violenza senza altro la figura di Gesù può comunque offrire un'immagine anche se mitica ma lo stesso Carl Gustaf Jung ci insegna l'importanza e il valore dei miti e dei simboli che forse più di ogni altra cosa hanno la capacità di insegnarci qualcosa di veramente importante intesa intesa in questo senso la figura di Gesù è ancora attuale anzi il nostro scopo è quella di recuperarla e magari ognuno ha modo suo secondo la sua sensibilità secondo la sua cultura secondo le sue inclinazioni io sono assolutamente convinto che Gesù abbia ancora qualcosa da dirci e per questo voglio citare le parole di un Vangelo Gnostico il Vangelo Copta di Tommaso dove possiamo leggere Gesù disse colui che conosce tutto ma non conosce se stesso non conosce niente e questo non è altro che un concetto che ritroviamo alla base di tutte le rivelazioni religiose prima ancora che fossero condizionate e manipolate dalle istituzioni ecclesiastiche è il famoso Gnotis Auton dell'oracolo di Delphi il Noscete Ipsum il Know Thyself il conosci te stesso questo è l'essenza ultima di tutte le religioni quella che unisce mentre le dottrini e i dogmatismi dividono e mettono gli uomini gli uni contro gli altri bene siamo arrivati alla nostra conclusione qui finisce questa serie di quattro conferenze su Gesù e i Manoscritti del Mar Morto sono molto spiacente di non aver saputo dare delle risposte che permettano alle persone di farsi una ricostruzione storica ma io sono altamente contrario al concetto di ricostruzione storica perché è scientificamente impossibile e quindi non sarebbe una cosa seria ogni cosa non è un che è un è un